E' fuori di testa Allora quindi io ho messo l'instant cast No, ok, quindi così, ok Così è il silence col gioco Ok, perfetto Quindi si parte con le reinforced shoot diretta Ok Sono un elefante, sono coccoloso Ciao, ciao Mosenkab, ciao Nate Guarda che questi qua arrivano subito diretti come dei mongoloidi Ok E' morto Poseidon Silence Dai che non fai un cazzo, dai che non fai niente, dai che non fai niente Bella non fare nulla Vieni, vieni, vieni Mi crediamo anche a te, stronzo Prendi, bravo Oh là, là, là ce n'è uno senza vita No, 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 bisogna fare, ragazzi, il buff, il buff, il buff per Nate Dove state andando? Ma povera Nate, ragazzi, ma perché vi fate i... Ma bollini, che, 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 che gente Ragazzi, i buff, bisogna finire Beh, vabbè, vabbè, am factare E3, E27 Roby, ci vieni a dare una mano con i buff, per favore No, eh Eh, però abbiamo i minion che ci stanno entrando in base Un sacco di minion Ciao Bu Capite tutta la gente sotto torre Guarda Bu Bu Capite la gente morta sotto torre Da che base Ulti di rama Vai rama E sta la combo Con Lega cancel Bull Roby ogni tanto vedrai Dei pilastri Ok Quando vedi quei pilastri Tu sai automaticamente che quelli che sono all'interno Se toccano i muri Vengono rallentati Quindi ci puoi lanciare dentro la ulti Come un pazzo Adesso io ce l'ho tra 30 secondi Più bello di che preganesce Come cazzo l'hanno fatto Silenzio silenzio ad area Su di me La ulti Occhio occhio Ti vedo ti vedo ti vedo No questo è scintianga Da una mano scintianga Mi sto facendo Roby hai la ulti No non sei qua Si ma tra 10 secondi Ok ok Attengo 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 Non ho un problema Questo muore Allora se ce l'hai Guarda Guarda Sparala dentro i pilastri Ok 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 Vicino ai pilastri Anche vicino ai pilastri Tanto sono tutti stunnati Eh ma l'ho fatta là dentro Ma l'ho fatta a mezzo ai pilastri Loro non c'erano più Si 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 no no Va bene va bene va bene E' solo per vedere se riusciamo a farla di range E se ci sta tutta Roby tanto ce l'abbiamo tra un minuto Giusto? Entrambi? Si 74 secondi Si è solo per vedere se ci sta la tutta Ok Quello muore Posso di due nel loro questa Che tira ulti a random Che muore contro di me Attenzione in uno contro uno Gli devo metà vita Oh ci sono pure io Aspetta aspetta Beh perfetto Torno 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 Silenzio eh Silenziato non può scappare Usiamo il siege Eeeh Ti tiro su Rai ma No 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 Ho capito Sono in me Allora Tu hai la ulti? No Io non ho una Io devo ricollare Sono un cretino Guarda in alta sinistra Vedi che ci sono dei puntini blu Sotto i personaggi Quando sono illuminati C'è l'ultimo Sotto là in alto a sinistra Vuol dire che ha l'ultimo Esatto Ok Me l'ho dimenticato Quindi adesso è l'ultimo E il mana Ok Possiamo fare robe brutte Vedi quanti alveari ci sono Di Amuse and Kaba A sto giro Sì sì ho visto che ne puoi negarmi Cazzola ulti di coso Abbiamo dietro me al furia Prendiamolo Ok La sospila tra fuori Si fa anche del danno Capito? Se stanno dentro Si pigliano la ulti Se escono Vengono rallentati E ce le più facili da uccidere Ok Comincia a silenzire Così donna Che barriti tiro Cazzarobo Occhio 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 Bello che lo dice Lo senti pure Fanno in base Ecco mi ha preso Soprano C'è gente che mi salverà Che bello Che silenzio tutto il team di là 9 secondi alla ulti Tu ce l'avrai tra 10 giusto? 15 Ok Ok, tirami su Quindi tra poco ce l'hai, tra poco ce l'hai Eh, tra 3 secondi Non è lì che non possono scappare Comunque Roby, io stavo provando Bella, bella Ti fermo, Rama Ok, tranquillo, tranquillo Comunque se vuoi provare poi un'impostazione Quello, quello, quello Tranquillo, tranquillo C'è il quick casting Conosci? No Praticamente invece che sparare le spell tirando il cerchio e poi R2 Basta che premi cerchio o tieni premuto quando la vuoi mirare Poi quando molli No, no, mi va benissimo così com'è Ok Ahia, ok Eh, Rama più la ulti via Fanno male, sì Anche rima Ricolli PILASTRI D'ARMICI PILASTRI D'ARMICI PILASTRI D'ARMICI PURRRR Guarda come si incappano con me Guardali, guardali POMM AHAHAHA POMM AHAHAHA AIA Che cancro che Ganesha, ragazzi AIA Qua ci muoro Quanti di te Invece no Giacciata 2550 HP Oh, i minioni, i minioni, i minioni, i minioni Ah, questo qua è quello che ti dicevo che se tu ammazzi una persona dai la... cioè, prendi l'assist e non prendi la kill Lo dai al champion più vicino Eh, si sta tenendo la ulti, eh A Paul, eh, Mercurio, guarda dove è finito Vieni, 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 Mercurio, non ti attendiamo OMMM Vai, 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 vai AHAHAHA Eeeh, PILASTRI D'ARMICI Venite, venite pezzi di merda che mi ne prendete male AHAH Guarda che ammazzo la gente da assist AHAHAHA Doppia mia, doppia di NEL AHAHAHA Occhio Upa AHAH 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 E' bellissimo, eh Bravo, che devi silenzio tutti Attenzione che ti do l'assist, uccidendo Coso Grazie, Robiii Oddio Oddio Sto in base con 1000 gold Sto notando ora il punteggio, Robi Quale? 20 A3 stiamo facendo Eh, si, si Che d'ora in poi userò questo qua con voi, tantissimo, nelle 3 contro 3 E il re dei cappa cinese, e il re dei cappa delle tartarughe giappone in giro qui Guarda quello con quanta vita Guarda Poseidone quanta vita c'ha Fatelo Lo vedo, lo vedo, lo vedo E' morto Oddio 6-0-11 a momento Io gli lancio i pilastri là e mezzo, vediamo che succede Oddio Oddio Grazie per avermi, allora, Kumbacarna, lo vedi il panzone che hanno loro con la mazza? Sì Ok, quel PGD Praticamente, ti può addormentare, può stunnare tutta la gente in gruppo C'hai fatto caso che tira uno sbaviglio? No Ok, praticamente, ti stunna Se però vieni colpito dai minion o dagli alleati ti svegli Quindi non sei più stunnato Non è uno stun normale, è proprio uno slitto Quindi se sei addormentato Preso Ah no, minchia grande che l'ha schivata Vedi che mi ha addormentato? Poi mi fa la ulti Ce la faccio anch'io Palla sugli altri Palla sugli altri, Kumbacarna e tank Ho visto, ho visto È un guardian, è un guardian E non lo butti mai più giù Perché è uno dei tank più pesanti del gioco Proprio forte Non è uno dei tank più pesanti Quello però ci rimane Guardi che vedendo Perfetto, io non l'ho preso Quello guarda con quanta via Perfetto, non l'ho preso Quello guarda con quanta via Puntava via Il dio del successo Nooo Nooo Marduk has returned Sto silenziando Troppo guadagnare helping hand hai fatto 100 assist nelle partite si 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 aspetta che c'è ui qua che lo facciamo che non può scappare faccio tutti ci sono pure quali è ma fa male questo occhio in volo in volo in volo vedi dove c'è questa pedalina rosso aspettiamolo torna qua lui però un telefono l'ultimo che non conosco è che l'ho fatto in base però grande faccio pure questo questo lo sto massacrando da inizio partita il loro deo quello quanta vita c'hai 1.305 di 1903 arrivo vedi che addormentato salviamolo è che di silenzio d'area me ne frega della ulti venite nei pilastri da armici vedi che male si prendono se passano nei pilastri occhio che c'è ui a sinistra facciamolo occhio che fa male questo mancato un po silenzio fa male 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 as 김� sontari che bravi poi provare poi provano ha male sotto a roccorio paula questo è veramente assurdo vado a svuocatori papà Sì, arrivo a farmi la kill Mancato Bravo, è di là Dov'è? È tornato qua Bravo Lo sbaglio nella tua polta E lo silenzio Così non si può muovere E gli tiro i pilastri Tra poco a tutti là in mezzo, occhio Pilastro a Wii Non l'avevi neanche toccato, vero? Eh no, gli avevo sparato quando era lì in mezzo Avevo buttato il mio rotondo in mezzo alla loro Però te l'ho ucciso io Perché ovviamente io do gli assist e non do le kill Quindi praticamente do la kill a te Bravo, Robby Questo qua è l'inizio partita che lo sto stuprando No, me l'ha fregato No, me l'ha fregato Dall'inizio partita 13.05 Sto facendo Questo che arriva Guarda, che qua ci muore Stiamo dando una russa a questi ragazzi Poverini Dov'è lasciato un cattare? Dai Finiamola con un oggetto che se vuoi Ai 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 Non mi direi che muoio proprio adesso Guarda questo Guarda questo che viene qui Anche se sei il tank Io me la piglio con te È morto tanto, eh? Pilastri Colastenet fatalis Che cacolo sei? Vuoi fare le cose? No, non le fai Non le fai Non le fai Ti ammazzo Tutta la partita Che finirà E da un altro kill Dai, entra Manca una kill Basta che ammazziamo una persona 16-0-16 Ci sto facendo Ok Questi sono morti Perché li prendete male Oppa, le vai 4T Che comunque finisce la partita Guarda Mercurio Guarda Mercurio Dai che è morto Bella 5 punti Sì 16-0-16 Per il per 84 Trovero guadagnato Super Cheer Attenzione